Buon salve ragazzi e benvenuti bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery usciamo di qua perché dove siamo arrivati perché insomma non mi era giusto perché non mi aveva caricato il sonoro e comunque non c'è la musica siamo tornati in questa fantastica avventura ieri siamo ora c'è la musichetta ascoltatela inquietante comunque ragazzi nel video di ieri siamo arrivati al punto che abbiamo scoperto di nuovo questo ghiaccio maledetto andatelo a vedere perché insomma c'è Thor che fa cose strane e oggi dobbiamo andare a scoprire acqua all'interno perché abbiamo scoperto che ci sono dei peli di topo probabili peli di topo quindi probabilmente crosta è qua dentro perché è qua dentro ve l'ho chiesto ieri ve lo chiedo anche adesso prima di iniziare il video fatemi sapere qua sotto nei commenti secondo voi perché crosta è qua dentro che stia cercando di tramare qualcosa scopriamolo insieme questo posto è incredibile sì perché Joe non era mai stato con noi non era mai stato qui a spezzare gli incantesimi con noi non fa freddo come prima è vero perché tre anni fa ragazzi tre anni fa questa cosa l'abbiamo già fatta qui si congelava speriamo che anche questa non sia una maledizione e se c'è del ghiaccio io direi di sì la è per forza cerchiamo in giro indizi su crosta o chiunque altro sia venuto qui perché secondo voi potrebbe anche essere qualcuno ha rapito crosta tipo persi ha fatto finta di fingere di far sì che crosta sia rapito quando in realtà è qui dentro a fare i suoi comodi non ha molto senso questa cosa sperchiamo un sacco oh mamma mia otto ore di energia ragazzi otto ore di energia la tristezza ragazzi la tristezza vi lascio qua sotto a sinistra tutte le insomma le varie descrizioni di queste cose quando finirò l'energia poi il resto lo farò off camera nel mente ne approfitto per dirvi qua sotto in descrizione vi lascio la versione di Harry Potter Watch Mystery per computer dove poter andare a scaricare e a giocare a questo fantastico gioco su pc se anche soltanto la metà di voi lo scaricassero io guadagnei abbastanza cioè tipo una piccola cosa per voi completamente gratuito da potermi cominciare a poter permettere il nuovo computer che mi servirà per poter giocare a nuovi giochi che vi porto per voi per esempio tutti i giochi mai usciti di Harry Potter figata pazzesca non trovate? ma dipende anche da voi insomma però ragazzi io ho finito l'energia e mancano ancora 4 stelle che noia se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici allora iscriviti al canale del Pixelmatto potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora cosa aspetti? iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta mamma mamma mao nel mentre ragazzi non so se avete notato ma stavolta le cose da cliccare sono di nuovo blu nel video scorso erano rosse non ho capito perché prima erano rosse ora sono blu bah non lo so quindi è sbagliata la mia possibilità che oh abbiamo trovato crosta sto dicendo che è sbagliata la mia possibilità che avevo pensato che boh saranno rosse quando è pericoloso ma qui è più pericoloso di prima quindi boh uff uff Thor ha trovato crosta crosta che è lì su un quadratino e boh non lo so crosta ha di nuovo trovato qualcosa sì ma non sai lo che lo dici cioè lo vedi con topo no come no sì è lì guarda quindi sì non no quello è crosta probabilmente Joe pensi che ci siano tanti altri topi oddio sì penso di sì secondo voi ragazzi un'altra cosa che vi chiedo questo bigliettino che sto per andare a leggere o almeno mi auguro l'avrà scritto crosta in realtà quindi ci sta fregando di brutto fatemelo sapere perché se ne stava su questo frammento di vecchia pergamena forse per prenderlo e boh non lo so non lo so ma andiamocene di qui all'improvviso ho una brutta sensazione ogni tanto mi dimentico di fare la voce sì Rocky ti ricordo che tre anni fa quella sporta lì sparava raggi di ghiaccio quindi vattene porterò crosta persi e vedrò cosa fare con questa pergamena tipo leggicela leggicela Rocky leggila no non non si può leggere evidentemente questa pergamena ma ragazzi direi che qua abbiamo finito tutto io come al solito ora mi dovrò fare tutte queste lezioni noiosissime e visto che me l'avete chiesto ragazzi io cercherò anche di portarvele un pochettino in video quindi almeno l'inizio di ogni lezione con un po' di diciamo delle cose che vengono dette quindi insomma fatemi sapere sempre qua se poi vi andrà bene se non vi va bene perché c'è un po' di gente che mi dice che sì sì va bene portala perché le voglio vedere e c'è anche altre gente che poi mi dice no non le voglio vedere assolutamente che schifo bla 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 ragazzi come ultima cosa di oggi io vedo se posso fare una cosa perché uno di voi ora non mi ricordo chi mi dispiace mi ha detto prova a mangiare con Penny io ora non so se posso farlo perché è a livello 10 però proviamo vediamo cosa succede me l'avete chiesto voi si vede magari ci abbraccia chi lo sa devi conoscere bene le pozioni per trovare le sale maledette Rocky vediamo come te la cavi vediamo cosa c'è nella pozione a cura bolle non ne ho la più pallida idea alchemilla ecco appunto ti conosciamo benissimo le conosciamo benissimo le pozioni proprio benissimo mamma mia mamma mamma mia tantissimo le conosciamo cosa c'è nella pozione restringente mmm milza di il ratto in pol i fichi secchi ah i fichi secchi nella pozione restringente i fichi secchi mizza ottimo lavoro Rocky vediamo cos'altro sai è un parato dei migliori tipo da te mmm migliore nello stanzino scusate 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 un attimo scusatemi sono un attimo che c'è nel doxicida il fegato di drago che poi con lei è facile basta beccare le due uguali mi sembra almeno il 90% delle volte è così e vediamo un po' se succede qualcosa di interessante come voi pensavate fantastico Rocky forse un giorno diventerei professore di pozioni e chi se ne frega ma non è successo assolutamente niente mi avete fregato io odio questa cosa ci avevo sperato veramente tanto che Penny e io potessimo e invece neanche questa volta ma ragazzi direi che per oggi è tutto ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter e Ghost Mystery vi ricordo qua sotto in descrizione la carta hype e un sacco di altre cose tipo il programma per poter registrare i gameplay la versione di Harry Potter e Ghost Mystery più compito ve l'ho già detta ci sono veramente un sacco di cose tra cui anche la mia lista acquisti Amazon ragazzi per oggi è tutto che altro dire clic clic passa la spada prendi lo scudo e fatto il misgatto mammao a non 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 Grazie a tutti.